Ciao ragazzi e ragazzi benvenuti nel canale e anche oggi una grazia didamista una piccola grazia didamista abbiamo tre biglietti e Fai Scopa New, Super 7 e mezzo e Battaglia Navale e niente ragazzi questo video lo dedico a Viki46 e niente insomma iniziamo subito allora Fai Scopa New è il video dedicato a Viki46 allora subito le carte sul tavolo e vediamo allora abbiamo un asso 4 e 4,9 allora dobbiamo trovare un cavallo prima giocata abbiamo un asso continuiamo con il 3 qui abbiamo un 4 poi c'è un 2 qui abbiamo un 5 e di nuovo un asso giù vediamo cosa c'è 4 qui c'è un 8 mannaggia un 10 un 5 qui c'è un 6 e ultima carta un 7 e niente ragazzi questo biglietto è perdente vediamo adesso con il Super 7 e mezzo numero 20 e non mi ricordo se ho detto il numero 66 del Fai Scopa New allora numero 20 Super 7 e mezzo vediamo le carte del banco qui abbiamo mezzo qui c'è 5 già abbiamo 5 e mezzo 6 e mezzo ragazzi e dobbiamo superare il 6 e mezzo dobbiamo fare 7 almeno 7 allora prima giocata 4 4 e mezzo e qui ci vorrebbe un 3 e invece c'è un asso niente 5 e mezzo seconda giocata mezzo un 4 come prima e vediamo l'ultima carta e vediamo l'ultima carta mezzo e niente e anche qui niente vediamo con le super carte se riusciamo a fare questo 7 e mezzo allora qui abbiamo un 3 qui abbiamo un mezzo e ci vorrebbe assolutamente un 4 vediamo e niente ragazzi niente anche questo biglietto è perdente vediamo cosa c'era qui 700 euro non ce l'avrebbe mai dati vabbè allora adesso vediamo con questa battaglia navale numero 53 e sistemiamo adesso qui ecco qua così si vede tutto e iniziamo con la prima coordinata qui c'è un C2 C2 eccolo qua qui abbiamo un pezzo H7 e qui c'è un pezzettino questa è carina poi C3 C3 acqua poi abbiamo ecco l'acqua poi abbiamo F7 F7 e abbiamo preso la barchetta per fortuna ragazzi almeno il biglietto non è perdente andiamo avanti e vediamo se riusciamo a trovare qualche altra barca allora D5 D5 eccolo qua sì qui c'è un altro pezzetto C7 questa è quella grossa quindi nemmeno ce la farà mai vedere E5 E5 sì qui ci vorrebbe un F5 per completare questa invece abbiamo E2 anche qui non sarebbe male c'è quest'altra qui che ci potrebbe dare se solo volesse B7 e niente questa fa parte di quella grossa e ultima coordinata allora ci potrebbe uscire F5 O D2 sì vediamo 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 D2 ragazzi è uscito D2 eccolo qua abbiamo completato anche questa barchetta allora fatemi controllare un attimo allora C2 eccolo qua D2 E2 eccolo qua poi abbiamo eccolo qui F7 eccolo è H7 ed eccolo qua ok allora ragazzi abbiamo preso le due barchette quella da 2 e quella da 3 allora vediamo cosa ci esce minimo sono comunque 10 euro allora vediamo questa qui piccolina qui abbiamo ah ecco già abbiamo 10 euro qui in questa piccolina e adesso vediamo in questa grande cosa c'è questa abbiamo ragazzi abbiamo vinto 30 euro qui ci sono 20 euro e proprio sono proprio contenta proprio contentissime almeno allora ragazzi abbiamo grattato questi grattini qui ecco qua allora ho speso 5 5 10 e abbiamo recuperato 30 euro allora ragazzi dai se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così per i prossimi video ci saranno le notifiche e io vi ringrazio tantissimo vi do un fortissimo abbraccio e un grande bacio ciao ciao alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.